Restano in 14 dopo il ritiro di Pequimpe, su Pattullo sale Vincenzo D'Alessandro Junior, in sostituzione di Mattia Orlano. 200 metri circa allo stacco, in prima fila Porto Stommi, Pexi, Papaya Lewis, Oliver Timme, Olimpo B. Seconda fila per Pieve Lod, Pattullo, Marrocco, Diondiv, Omicron, Oemme, Otton e Jet. Terza fila Paul D'Igret, ora mai più la sole, Owens-Gar. Chiusura delle ali, Pexi, Papaya Lewis ed il galoppante Oliver Timme all'imbocco della prima curva. Si vanno a delineare le posizioni, Papaya Lewis completa la curva, poi si sistema secondo. Sul galoppo di Porto Stommi, adesso va a chiedere strada a Pexi, lancio in 15 e 2. Papaya a Pexi nelle prime due posizioni. Poi veloce Odeon degli Ulivi, in terzo alla corda Omar Rock, veloce dalla seconda fila, primo quarto in 32. Odeon degli Ulivi insiste su Papaya, va ad attaccarla. Papaya si oppone, in coda al gruppo il favorito, Owens-Gar. 600 veloci in 44 e 8, insiste Odeon su Papaya. Pexi li segue da vicino, poi Omar Rock. Si fa vedere anche Omicron o M. Sta passando Odeon degli Ulivi, muove dalla corda a Pexi, un minuto e quattro decimi di 800. Pexi a largo. Papaya sollecitata, ne ha poco. Omicron o M che aspetta il momento giusto. La mossa in quarta ruota di Paul Digre, va di dentro per il momento Wens-Gar. Lo scatto a centropista di Paul Digre. Paul Digre è anticipato dal galoppo di Ora mai più la Sol. Paul Digre sembra avere le battute migliori, è seguito nell'azione da Owens-Gar. Il Sanchez foto di Di Nardo passa e prende vantaggio. Owens-Gar all'inseguimento. Paul Digre entra in retta d'arrivo con tre lunghezze di margine su Owens-Gar. Battute conclusive, Owens-Gar va di dentro, Paul Digre ancora in vantaggio. Sollecitato Paul Digre, Owens-Gar si avvicina. Ma il palo è vicino, Paul Digre, Owens-Gar al terzo. Ottone Jet precede Odeon degli Ulivi. Al quinto Pexi. Quindi arrivo probabile ed ufficioso. 13 Paul Digre, 15 Owens-Gar. 12 Ottone Jet, 10 Odeon degli Ulivi, 3 Pexi. E questo è l'arrivo probabile ed ufficioso del quintet di questa sera. Si afferma Paul Digre, un Sanchez foto e agrodolce del signor Santo Marrazzo. Giacomo Perfetto al training Gaetano Di Nardo in Salchi. 3,96 euro la quota del vincente. Signore e signori, è tutto dal Cirigliano di Aversa. Arrivederci alla prossima giornata di corse, che si terrà sabato 15 dicembre. Buona serata a tutti.